Riunione mattutina per il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta all'ASP di Cosenza. Il primo cittadino ha incontrato i vertici dell'azienda sanitaria con l'intento di capire meglio l'improvviso trasferimento al nosocomio di Castrovillari dell'ATAC assegnata all'ospedale Iannelli. Da quanto riferito dallo stesso Aieta, il presidio sanitario di Cetraro avrà la sua TAC entro fine maggio, visto che sarà acquistata con una procedura di urgenza. Buone notizie anche per quanto riguarda il nuovo reparto di lungodeggenza, per cui è stato autorizzato l'acquisto di nuovi letti. Fatto sta che il primo cittadino non è pienamente soddisfatto, visto che ancora una volta un sindaco ha dovuto fare la voce grossa per risolvere una situazione la cui competenza spetterebbe ad altri. Spero, ha concluso Aieta, che il prossimo presidente della regione Calabria si impegni a togliere le grinfie della politica dalla sanità per evitare che i padrini di turno agiscano in spregio alle elementari regole di una buona amministrazione, provocando danni solo ed esclusivamente ai nostri cittadini. Caso chiuso quindi, no, perché il sindaco promette che la vicenda sarà seguita passo passo e si cercheranno di evitare ritardi o spiacevoli inconvenienti che, come sempre, causano disagi solo ai pazienti dell'Alto Tirreno Cosentino.